Quinto posto finale con un tempo superiore di circa 8 decimi al suo personale. Non è stata una parentesi esaltante quella di Eusebio Aliti ai campionati europei Under 23 di Atletica Leggera che hanno preso ieri il via con le gare di marcia a Tamper in Finlandia. Il quattrocentista biscegliese della polisportiva scotellaro Matera allenato da Toninoferro non è riuscito ad esprimersi sui suoi migliori standard di rendimento nelle batterie dei 400 metri ostacoli che si sono corse proprio oggi. Inserito nella terza serie Aliti ha tagliato il traguardo in quinta posizione con il tempo di 51 e 25. Meglio di lui hanno fatto il serbo Emir Bekric 50 e 48, l'irlandese Harvey, il francese Jato e l'olandese Ars. L'accesso alle semifinali era riservato ai primi tre classificati e ai quattro migliori tempi tra i ripescati. Alla terza maglia azzura in carriera dopo le parentesi agli euro indoor di Gothenburg in Svezia e giochi di Mediterraneo di Mersin in Turchia dove aveva ottenuto un eccellente quinto posto Aliti non è riuscito questa volta a lasciare una traccia di spessore. Il campione italiano dei 400 ostacoli nella categoria promesse tuttavia avrà modo ed occasione già in questa stagione di riscattarsi con gli interessi. Sabato mattina alle ore 11 per la precisione toccherà invece all'altro atleta della BAT presente ai campionati europei under 23 di Tamper e vale a dire Vito in Cantalupo. Il barlettano dell'Enterprise Sport & Service di Benevento allenato da Francesco Montenero sarà in gara nelle batterie della 4 per 400. Domenica c'è la finale alle ore 17.55. Ieri infine buone notizie per la marcia pugliese. Antonella Palmisano ha conquistato il bronzo nella 20 km tra gli uomini quarto posto di Massimo Stano.